Musica Nel cortile del Palazzo delle Finanze, via Verdi, una panchina e le scarpe rosse per dire basta all'escalation di violenza sulle donne. Un messaggio lanciato con forza dalla personale dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Avellino, attraverso anche un convegno sul tema che ha visto protagonisti la Presidente della Cooperativa Demetra, Maria Rosaria, famoso l'Avvocato Paola Forgione della Casa Rifugio, Antonella Russo d'Ospedaletto, il Sindaco d'Ospedaletto Antonio Saggese e l'Assessore alle pari opportunità Nadine Sirignano. Una riflessione sostenuta dalla Polizia Penziaria, presente in ufficio e coordinata dall'Ispettore Capo Nicola Limone. A nostro microfono l'esperienza vissuta tra luce e ombre, dall'unica Casa Rifugio per donne in campagna a Ospedaletto e l'impegno dell'Ufficio situato a Via Verdi. Allora, dopo un anno di attività il bilancio è sicuramente positivo per quanto riguarda la qualità del servizio che abbiamo erogato. Oggi siamo la casa che il territorio riconosce e siamo conosciuti sia sul territorio della provincia di Avellino e anche fuori provincia. Questa rappresenta il risultato positivo della casa. Ad oggi abbiamo accolto 10 donne e 14 bambini. Delle 10 donne già ne abbiamo dimesse 5 e attualmente in casa abbiamo 4 donne e 6 bambini. L'ombra è stata rappresentata, l'ombra di quest'anno è stata sicuramente le difficoltà economiche che abbiamo avuto perché purtroppo nonostante si parli tanto di violenza e nonostante ormai il femminicidio è dilagante sul territorio nazionale, purtroppo c'è molta difficoltà da parte degli enti locali a collocare le donne in casa rifugio. Spesso si tratta di piccoli comuni che non hanno le risorse economiche per un collocamento e quindi si cerca e si tenta di collocare la donna altrove o nella rete parentale oppure in qualche convento. Purtroppo riuscire ad avere la riscossione dei pagamenti per il collocamento di una donna in struttura è molto molto difficile. Noi abbiamo un rapporto rispetto al problema, al fenomeno della violenza delle donne. Diciamo che siamo un po' a fianco perché noi ci occupiamo di esecuzione penale, prevalentemente di esecuzione penale esterna e quindi diciamo che gli utenti di questo ufficio sono le persone condannate per un reato tra cui anche quello di violenza alle donne. Devo dire per la realtà che questo non è un territorio fortemente caratterizzato da nessun tipo particolare di devianza. Non ci sono grossi problemi nel territorio bellinese, ma ci sono. Siamo in questo momento impegnati come ufficio sia per quello che è il nostro aspetto storico da sempre, ci siamo occupati di esecuzione penale esterna e anche di collaborazione con gli istituti penitenziari della provincia di Avellino, ma anche e soprattutto in maniera crescente dei lavori di pubblica utilità che ci vedono sempre di più coinvolti in una collaborazione strettissima con gli enti e le associazioni di questo territorio.